Oggi ci troviamo sul luogo in cui sorgerà un giardino particolare. Si tratta di un giardino aperto al pubblico che ospiterà un piccolo orto botanico, delle serre, dei luoghi per incontri e corsi, un'area attrezzata per i bambini e anche un orto didattico. È un giardino che voglio utilizzare per mostrarvi concretamente le fasi della realizzazione del giardino. Ho avuto già modo di parlare delle fasi della creazione del giardino in altri video. Qui abbiamo la possibilità di vedere concretamente come vengono svolti i lavori. Siamo partiti da un rilievo effettuato con un drone che ci ha dato un quadro chiarissimo dell'andamento del terreno, dell'orografia esistente e sulla base della situazione esistente siamo andati a concepire il disegno del giardino e la sua struttura in modo tale che soddisfacesse le richieste della committenza, andando però ad ottimizzare anche i costi e le lavorazioni richieste. Oggi stiamo abbozzando le aree, un po' come fa uno scultore che dalla materia grezza comincia ad abbozzare le forme e poi va ad affinarle gradualmente. Così noi cominceremo con l'abbozzare i vari livelli del giardino e le varie aree e poi nei prossimi giorni passeremo a definire il disegno sempre più precisamente. Quindi vi invito a continuare a seguirmi per vedere insieme come un'idea progettuale diventa finalmente un vero giardino. A presto! Grazie!